Ritorniamo un attimo su Banca Etruria perché è sfumato questo incontro che doveva esserci nella sede, diciamo, a retina della nuova Banca Etruria. Lei ha scritto una lettera, intanto non so se, ora i tempi sono un po' stretti, se ha già ricevuto, diciamo, un minimo di riscontro, ma non voglio pensare dal Presidente, ma magari dai parlamentari a retini perché, insomma, loro sono i primi a portare forse le istanze degli a retini nei luoghi giusti. Sì, io non ho avuto nessuna conferma da parte dei parlamentari a retini, devo però dire che, leggendo la stampa anche recente, anche i giornali di questa mattina riportano la, diciamo, politica di recupero delle risorse necessarie a reintegrare quanto hanno perso gli obbligazionisti subordinati attraverso quel meccanismo che io avevo suggerito al Capo dello Stato e cioè di cambiare la percentuale di svalutazione dei crediti sofferenti e di destinare una parte dei guadagni che sicuramente verranno fuori da quella vendita ai soggetti che hanno perso per altra strada quelle ricchezze. Ho scritto al Capo dello Stato e sono comunque presente, non molti lo sanno, io l'ho anche detto, perché io ho contatti continui sia con l'amministratore delegato della nuova Banca Etruria sia col Presidente della Bad Bank e anche con direttori generali di Banca d'Italia. Il meccanismo sul quale sto cercando di condurre la partita è proprio quello del recupero attraverso un meccanismo virtuoso di valorizzazione delle plusvalenze dei crediti deteriorati, per due motivi. Primo, perché non mi sta bene che i cittadini ne subiscano un danno. Secondo, ma l'ordine potrebbe essere invertito, non mi sta bene che qualcuno ci faccia un ingiusto guadagno, come sembra possibile che avvenga con una svalutazione dell'85% a fronte di medie nazionali che portano il recupero tra il 25% e il 35%. Quindi non è vero che non sono presenti oggi nelle piazze a bubare davanti a Banca Etruria, ma perché forse il primo cittadino non deve nemmeno fare questo, ma sta lavorando il primo cittadino per far sì che il problema si risolva con soddisfazione di coloro che a oggi hanno perso tutto.